a tutti volevo semplicemente farvi sapere ve la farò vedere la vetrina di seranelli abbigliamento che è cambiata ed è una vetrina maggiormente per la primavera o poi l'aggiorneranno insomma per l'estate anche se già qualcosina c'è vedete questo è la loro vetrina primavera estate maggiormente primavera la seranelli abbigliamento ad acqua sparta insomma è utile che ve lo dica trovate le migliori firme della moda per uomo e per donna qui potete insomma ammirare tutto quello di bello che hanno in questo negozio dalle calzature ai jeans di varie marche la saisoni la colmar insomma marchi di moda di tendenza piumini insomma tutto l'ideale per vestirvi in queste stagioni dove bisogna scoprirsi ma un po alla volta perché comunque può tirare un po di ferdi freddo un po di di tramontane quindi potreste avere freddo se vi scoprire troppo il negozio faccio vedere insomma si trova in questa via che sostanzialmente via mazzini ad acqua sparta poi basta che la digitate sul navigatore se non siete di acqua sparta e volete venire a trovare serranelli abbigliamento questa è la loro insegna e allora non vi resta che venire da serranelli abbigliamento ad acqua sparta per vestirvi come vi piace e per sostanzialmente vestirvi alla moda